In aula alla Camera il testo del PD che riscrive le regole per i vitalizi dei parlamentari. I 5 Stelle attaccano la legge e merito nostro. Grillo e Casaleggio sono attesi nel pomeriggio a Montecitorio per assistere alle votazioni. La cronaca con Francesco Mesano e poi i contenuti del provvedimento con Maria Soave. Abolizione dei vitalizi, atto primo. Il testo presentato dal PD in discussione oggi alla Camera. 108 emendamenti e scontro tra Deme e 5 Stelle non sul merito ma sulla paternità della legge. Il movimento promette un sì compatto ma non rinuncia a polemizzare. Stiamo ancora a parlare di vitalizia, la pensione a quello dopo 4 anni. Ma questo è amorale, non immorale. Io sono un immorale. Questo è amorale, non avere il minimo senso di moralità per questo paese. Grillo ieri sera ha cenato a Roma con Davide Casaleggio e Virginia Raggi e oggi sarà in aula tra i palchi risalvati al pubblico, come ha fatto altre volte, per assistere alla discussione. Favorevoli anche Lega, Fratelli d'Italia e Sinistra Italiana.